Mamma mia ragazzi, che serata incredibile! Mamma mia, che serata pienissima di emozioni! Mamma mia! Allora, alla fine sono passate quelle che già di principio erano date per favorite, Portogallo e Spagna, ma il modo in cui sono passate, con il rischio fino all'ultimo secondo che una delle due sarebbe potuto uscire, è clamoroso, veramente clamoroso, e mi fa pensare ancora di più che se fossimo arrivati a questo mondiale, qualcosa l'avremmo potuta dire anche noi ma voi pensate alla roba clamorosa che ti regala il calcio e che mi conferma ancora una volta che questo è lo sport più bello del mondo pensateci, a dieci minuti dalla fine il Portogallo era quasi sicuro del primo posto, con sette punti, vittoria sull'Iran e buonanotte, la Spagna addirittura perdeva a un certo punto con il pareggio dell'Iran negli ultimi minuti si è fatta viva, concreta la possibilità che il Portogallo potesse passare dal primo posto al terzo e quindi fuori ai gironi alla fine, lo ripeto, sono passate le due più favorite ma voglio fare dei grandi complimenti a Marocco ma soprattutto Iran per il grande impegno che hanno messo in questa competizione il Marocco si può dire che già quando ha buttato la prima partita con l'Iran si è capito che sarebbe uscita però in quest'ultima partita la Spagna ha dato veramente l'anima, io non ve lo nego, io ho guardato specialmente la partita del Portogallo anche perché era l'unica che potevo vedere sulla tv e quindi mi sono concentrato solo su quella però da quello coletto, comunque su tutti i post coletto, il Marocco ha fatto una sontuosa partita e poi lo dimostra chiaramente il risultato, la Spagna ha dovuto rimontare due volte il vantaggio dei marocchini con un gol a fine primo tempo, non mi vorrei sbagliare, e un altro a fine secondo tempo quindi anche loro hanno sofferto tantissimo e per quanto si sono qualificati agli ottavi diciamo che potevano fare una figura migliore ecco diciamo solamente questo, ci sono arrivati ma non tanto per merito loro diciamo per parte merito loro ma soprattutto per fortuna, diciamo così voglio concentrarmi specialmente sull'Iran che ha fatto una partita di grande sofferenza ma comunque di grandissimo impegno a un certo punto ho visto i giocatori che correvano sulla fascia, andavano sulla palla come degli assatanati proprio corre così e stavano a morire, che tra poco se avessero continuato a correre così avrebbero sputato un polmone per terra veramente, ed è questo quello che un tifoso vuole vedere in campo io sono sicuro che i tifosi dell'Iran, anche se la loro squadra è stata eliminata saranno orgogliosi della partita che hanno fatto perché contro compagini molto più forti, tecnicamente, tatticamente, sotto tutti gli altri punti di vista hanno fatto prestazioni importantissime vincendo col Marocco e rischiando per un pelo di andare agli ottavi con una squadra tecnicamente mediocre ecco diciamo tecnicamente mediocre tecnicamente mediocre ma con due palle così veramente, due palle così comunque, parlando un pochino della partita del Portogallo è stato un qualcosa di clamoroso perché a un certo punto Portogallo in vantaggio con un gol clamoroso di quaresma veramente, anche questo si candida come il gol più bello in tutto il mondiale 2018 una trivela fantastica sotto l'incrocio secondo tempo rigore col VAR che c'era netto sullo stesso Ronaldo batte CR7 e il portiere para di qui in poi è cambiata completamente la partita il Portogallo ha avuto paura di perdere ha avuto paura di perdere il filo del discorso non il filo del discorso, comunque il filo della partita ed infatti si è visto che hanno reagito male alle provocazioni dei giocatori dell'Iran che nel secondo tempo hanno improntato molto sull'esagerazione poi dall'1 a 0 in poi l'Iran ha attaccato costantemente e secondo me l'unica pecca che c'è stata nella loro partita è che hanno segnato troppo tardi il rigore è arrivato al 92esimo con 4 minuti di recupero che sono comunque tanti però era troppo tardi un conto se lo segnavi al 70esimo, 75esimo già era diverso ma segnare al minimo di recupero è stato importante gli ha fatti comunque credere che poteva succedere qualcosa e alla fine c'è stato anche un tiro molto pericoloso del loro attaccante però per poterci sperare secondo me avrebbero dovuto segnare prima adesso non glielo sto dicendo per recriminare qualcosa comunque per denigrarli anzi sto facendo un video solo di complimenti a loro però se avessero segnato prima poteva cambiare qualcosa in generale voglio improntare questo video facendo i complimenti all'Iran e al Marocco che fino all'ultimo hanno onorato la competizione il Marocco per uscire a testa alta perché loro erano praticamente già fuori e l'Iran per tentare un'impresa impossibile che non gli è riuscita per un pelo il calcio è uno sport meraviglioso a volte puoi soffrire ma quando esulti, quando festeggi è clamoroso e io veramente se fossi stato un tifoso dell'Iran sarei soddisfatissimo dell'impresa che ha fatto la mia squadra arrivata ad un pelo è arrivata a far tremare con pagini come Portogallo ma soprattutto Spagna che nonostante la qualificazione si è salvata per un pelo di fortuna ci vediamo presto per un altro video ragazzi fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate del pareggio dell'Iran e del pareggio della Spagna che ha qualificato gli spagnoli e i portoghesi con molta più sofferenza del normale ci vediamo presto per un altro video un saluto e sempre comunque forza Roma ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti